Oggi su Twitch, scusami se ti interrompo, sei il secondo italiano Sì, è certo, il primo è Gianmarco Sì, è piuttosto Blurone Che per fortuna c'è lui Oltre a Twitch di cosa si occupi adesso? Faccio Twitch, viaggi in Giappone, faccio l'art director per il mio management di artisti che si chiama Smile Abbiamo lavorato già in pochi mesi, 7-8 mesi, abbiamo lavorato con Kellogg's, con Panini, con realtà locali Sì, sì, ci chiamano per fare loghi, locandine, comunicazione di... abbiamo lavorato anche con Fandango per un film che è stato premiato anche a Venezia Insomma, stiamo cercando di fare... anche qui non ci si diventa ricchi, però è soddisfazione Cioè, fa la locandina per me del Baccanalia, è bellissimo, no? Invece la storia della locandina con i PNG spiacciati è una cosa... Sì, sì, è chiaro, chiaro Cioè, noi in Toscana siamo abituati alle locandine brutte, tipo la saga del Cuniglio Giallo fluo, con la scritta nera dentro, le date, festa finita Bellissimo E poi faccio appunto i miei progetti solistici, appunto... solisti, scusami Quindi tipo carte con Panini, ora con Panini c'è una collaborazione attiva e basta Quanto ti ha aiutato la notorietà che hai acquisito tramite Twitch anche negli altri? Tantissimo, tantissimo Ad oggi su Twitch, scusami se ti interrompo, sei il secondo italiano Sì, certo, il primo è Gianmarco Sì, è piuttosto... Blurone, che per fortuna c'è lui lassù Sì, sì, per fortuna c'è Gianmarco lassù, lo dico sempre Perché secondo me è una persona che può piacere o non piacere Perché ha questo, come me, c'è questo atteggiamento molto spaccone, arrogante Però poi di persona è una pasta ed è soprattutto vero Cioè è una persona che non te lo butterebbe mai in culo È una persona corretta, è una persona che si fa molto i cazzi suoi È molto raro su Twitch trovare una persona di questo tipo, soprattutto con i suoi numeri È quasi utopistico E quindi sono contento che ci sia lui lassù in cima piuttosto che una merdina Lo dico sincero Comunque è secondo, cavolo Ma poi non mi dico la verità, ma non è una scusa, una paraculata Non mi piace essere il primo, non mi è mai piaciuto essere il primo Vabbè, punti a quello Infatti in One Piece io ti favo... È una paraculata No, 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 assolutamente no Non punti essere il primo Se guardi il mio percorso non me ne frega un cazzo Esatto, cioè conoscendoti un'altra Allora, essere il numero uno È un ambizioso Ma l'ambizione dipende da che ambizioni hai Gianmarco, per esempio, ha quell'ambizione Cioè Gianmarco vuole essere il numero uno su Twitch E io sono contento per lui che ce l'abbia fatta E che ce la stia facendo regolarmente Perché sai che devi... Sì, sì, è chiaro È normale Io voglio fare altre cose Cioè a me mi interessa Perché dovrei essere il numero uno su Twitch? Perché devo guadagnare ancora di più su Twitch? Perché che ci fa? Me li metto un culo sordi? Secondo me è un po' file però Cioè non ci credo No, ma magari sai Boh, da una parte... Ma perché per la tua concezione è impossibile non essere ancora più ambiziosi Però io sono tanto ambizioso in altri mondi Cioè io voglio fare... Voglio rivoluzionare il mondo del collezionismo in Italia Quella è un'ambizione quasi utopistica in Italia Perché ci sono delle cariatidi che rimangono lì fermi da cent'anni Ed è difficile che lo streamer di Ole Servetti arrivi e sfondi tutto Io voglio poter sfondare tutto Più che altro la tua ambizione è più sulla divulgazione Che sull'essere il primo Quindi per te l'interesse è più comunicare alle persone queste tue passioni Queste informazioni piuttosto che mirare essere il primo Almeno da quel che vedo, no? Dal Dario che ho qui a fianco Da tutto ciò che stai dicendo in questa prima mezz'oretta Mi sto accorgendo che per te è più interessante questo E poi sono anche conscio che facendo interviste a Paola Cortellesi E parlando di fumetti e cartoni animati il mercoledì o quant'altro Non arrivi a quei numeri lì Ma perché è un pubblico diverso Nonostante la nicchia si sia espansa l'inverosimile Non sarà mai il pop assoluto in Italia Ma va benissimo così, ti ripeto Io l'ho scritto anche su Instagram l'altro giorno Voglio fare carte per tutta la vita Voglio fare locandine dal baccanale da qui fino al post-atomio Anche perché non ho la presunzione di credere che io durerò per sempre su internet Quindi è inutile essere il primo E questa è la mia visione Gianmarco fa bene a fare quello che fa È inutile essere il primo Se poi quella piattaforma si trasformerà in qualche cos'altro Cambierà, non può rimanere Internet va alla velocità della luce È incontrollato Però non è quella la mia ambizione Infatti per me Barba Bianca è sempre stato il più bel personaggio di One Piece Da quel punto di vista Vuole una famiglia, non vuole trovare lo One Piece Vuole avere una famiglia Vuole farsi tanti amici, sta bene, essere libero Serenità La serenità è la cosa più bella Su quello siamo tutti d'accordo Ma ognuno ha la propria visione di serenità Ha la propria serenità Certo, ed è legittimo Gianmarco sta bene così E sono contento Perché lo vedo sempre felice Cioè, per lui quella roba lì è stimolante, penso Per me quando mi sveglio e su Telegram Arrivano gli artisti e mi mandano le carte in approvazione Devo fare le correzioni Ecco, per me quello è il picco che si può raggiungere Per la mia vita Meglio di una doccia fredda la mattina alle sei, dai Sicuramente Senti, dai Poi non fassi le seghe Ti fa disturbare Ma quella è stata più della doccia fredda Ma può essere un masturbast Anche per le donne, ragazzi Non ascoltate Luca Valori Distruggetevi Ora scusate il gesto Anientatevi Io lo dissi a Cruciani Nel senso Ma poi Cruciani penso che Sia molto lontano dalla visione Vabbè 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 Vabbè